Un simpatico siparietto ha visto protagonista il molfettese Vito Gadaleta, uno dei tanti giovani molfettesi che vivono all'estero e che lavora come steward della famosa compagnia aerea low cost irlandese Ryanair. Tutto accade nel volo di venerdì scorso inizia a Dublino, dove è di servizio il nostro concittadino. Dopo gli usuali controlli il volo decolla ma un passeggero o un musicista ha un bagaglio un po' particolare, ovvero una fisarmonica che in teoria sarebbe dovuta essere caricata in stiva. A differenza di quanto accaduto recentemente nei voli di altre compagnie internazionali dove si è addirittura arrivati alla zuffa, il nostro concittadino trova quindi subito il modo più divertente per ovviare il piccolo problema, con una semplice ma genial idea, ovvero far pagare impegno al passeggero, proponendogli di suonare una tipica ballata dell'Irlanda. Alla prossima! No! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti